Schio, due feriti, quattro denunciati, i numeri ci sono, i conti fanno fatica a tornare però, nonostante qualcuno abbia cercato di regolarli i conti, usando le mani, non le ditta per contare, no no, i pugni. Capo Gang, un diciottenne marocchino residente a Sant'Orso, già noto alle forze di polizia, questa volta assieme a quattro scagnozzi, tutti giovanissimi, sia italiani che stranieri, ha aggredito e mandato all'ospedale due ragazzi nel posto. Uno di loro, solo qualche giorno fa, aveva avuto un diverbio con il boss magrebino e forse quest'ultimo voleva fargliela pagare. Per quattro dei cinque aggressori è scattata la denuncia e per il capo banda è stato chiesto foglio di via da Schio.